Ventinovesimo canto Metà del loro disco Sole in declino, luna in ascesa Taiono farsi cintola Dell'orizzonte Quant'è dal punto che Il cenit in libra Il tempo che intercorre fra l'attimo In cui lo zenit quasi perno di bilancia Tiene in perfetto equilibrio Quasi piatti di bilancia Sole e luna E l'attimo in cui l'un disco E l'altro si svincolano Si dilibrano da quella cintura D'orizzonte e cambiano Emisfero l'uno tramontando Tutto l'altro tutto Sorgendo Tanto vale a dire il minuto scarso Che impiega mezzo disco di sole A tramontare mezzo di luna piena A sorgere si tacque Beatrice fissando Dipinta di sorriso il punto Che Mavea vinto Ordina e organizza il punto E punge e vince E Beatrice Taciutasi quel poco o nulla Ha già ricominciato a parlare D'angeli Dicendo al suo uomo Io ti dirò quel che desideri ascoltare Senza domandartelo Perché l'ho già visto Dove ogni ubi e ogni quando S'appunta Insomma dove ubiquità Ed eternità di Dio Si fanno punto A noi però potrebbe tornare comodo Per ordinare il flusso torrenziale Della dottrina di donna Beatrice Dedurle dalle sue risposte Queste domande taciute E adibirle a sottotitoli Una preliminare potrebbe essere questa Perché Dio ha creato gli angeli? Che bisogno aveva? Risposta beatifica Non certo per procacciarsi Un incremento di bene Ciò che è manifestamente impostulabile Ma perché la sua irradiazione Rifrangendosi Potesse dir subsisto Potesse cioè pronunciare Il proprio essere in sé e per sé Fuori da qualsiasi determinazione temporale Da qualsiasi delimitazione spaziale In eterno Per questo e non per altro Come e quando gli piacque Si dischiuse Espanse Moltiplicò in nuovi oggetti Soggetti d'amore Lui Dio Amore eterno Saperse in nuovi amor L'eterno amore Sciolto il quesito preliminare Beatrice passa alla prima domanda muta Ma prima Dio che faceva prima di creare? Niente? Risposta Non che prima se ne stesse lì Intorpidito con le mani in mano Già che lo discorrer di Dio Sovra quest'acque A rigor di Genesi La creazione delle acque Super firmamentum Cioè di questo cielo cristallino Commutatore dell'eternità in tempo Cioè la creazione del tempo Né prima né poscia procedette Non si attuò in un prima d'un poi O in un poi d'un prima Come dire Collocandosi l'atto della creazione Nella perenne attualità dell'eterno Non può soggiacere Ad una qualsivoglia serialità temporale Seconda domanda All'atto della creazione Sui confini del tempo Dio con le sue mani Ha creato solo gli angeli? Risposta Forma e materia Congiunte e purette Sia in combinazione Sia allo stato puro Prette Si affacciarono senza imperfezione all'essere Come tre frecce Scoccate nel medesimo istante Da un arco a tre corte E come riflettendosi nella trasparenza di vetro Ambra o cristallo Fiotto di sole La investe appena E l'ha già tutta invasa Ed è già tutto in quella trasparenza Così il triplice effetto Forma pura Materia pura E forma materia Si irradiò della totalità del suo signore Senza gradazione nel tempo Totalmente da subito Di più Nel crearle Il creatore dotò le sostanze triformi Della struttura loro propria E insieme Della loro propria funzione Nell'ordinamento del creato E come quelle Nelle quali si manifestava L'atto puro Le intelligenze celesti Furono stanziate Alla sommità dell'universo Cioè nell'empireo Nella parte più bassa Cioè nel mondo infralunare Fu collocata la pura potenza Della materia originaria Mentre nel mezzo Nell'ettere Delle nove sfere rotanti Potenza ed atto S'erano intrecciate In un intrico così stretto Che mai si districherà Vime che giamai non si divima Terza domanda taciuta Sì ma San Girolamo Risposta San Girolamo Sì vi ha lasciato scritto Gli angeli essere stati creati Lungo tratto di secoli Prima che il resto dell'universo fosse Ma la verità che ti ho appena esposto È attestata in molti passi della Bibbia Da chi scriveva Sottodettato dello Spirito Santo Come puoi renderti conto da te Se controlli bene D'altronde la ragione stessa Nei suoi limiti Conferma l'assunto Il vede alquanto Da che non può concepire Che le intelligenze motrici dei cieli Perfettissime ab inizio Si siano attardate tanto Nell'imperfezione Di non adempiere al compito loro proprio Non avendo cieli da muovere Qui Beatrice tira un primo consuntivo Dante avrà ormai capito Dove in quale non spazio Quando in quale non tempo E come Con quali modalità e funzioni Sono stati creati questi angeli Amatissimi, amorosi Questi amori Così il bruciore di tre desideri Può dirsi sfiammato E passa Beatrice senza indugio A spegnere dubbi ulteriori Che legge nel silenzio ustionato Del suo amico Domanda quarta E quanto tempo sarà passato Fra la creazione degli angeli E di quant'altro E l'ammutinamento degli angeli ribelli Risposta Dall'atto della creazione A quando una parte degli angeli Precipitò a turbare il soggetto Di i vostri alimenti L'infimo degli elementi infralunari Cioè la terra Trascorse meno tempo Di quello che si impiega A contare da uno a venti Quinta E che successe dopo Di preciso Risposta Successe che gli angeli buoni Generalmente valutati Intorno al 90% del totale Rimasero in empireo E intrapresero l'ufficio In cui li vedi assorti Con tanto diletto Che da questo tubion contemplativo Intorno al punto Dio Da circuir Non si distrarranno mai più L'altro 10% Serve dirlo Precipitò E piace ricordarlo Causa della caduta Fu la maledettissima Impennata di superbia Di colui che hai visto Con i tuoi occhi Conflickato nel baricentro Della gravitazione universale Sesta Che cosa ebbero in premio Gli angeli buoni Che non avessero già E per quale benemerenza specifica? Risposta Quelli che ora vedi Quassù Ebbero la modestia L'umiltà E la misura Insieme Di riconoscersi Debitori Di tutto il loro essere Alla bontà assoluta Che li aveva Predisposti A così intensa percezione Intellettiva Ben perciò Le loro capacità Di visione beatifica Furono potenziate Dalla grazia illuminante E dal loro stesso merito Di modestia Per modo che La volontà S'è fatta in loro Ferma e piena Irremovibile E integralmente Conforme alla volontà Di Dio E su questo punto Non permetto Che tu nutra dubbi Anzi ti voglio certissimo Che ricevere la grazia È meritorio Secondo che L'affetto L'è aperto In proporzione Alla disponibilità E all'aspirazione Di chi la riceve Cioè Al merito Di desiderare Di riceverla Qui Beatrice Tira un secondo Consuntivo Ormai Se ha assimilato Bene le sue parole Dante sarà in grado Di indagare E riflettere A sufficienza Sulla comunità Degli angeli Su questo consistorio Senza ulteriore aiuto Sanz'altro aiutorio Da sé E modulando latinismi In orio Sembra dir messa La bella maestra Però non ha finito Un altro dubbio L'amico suo Condivide con gli angelologi Mondani Il settimo E lei non si fa pregare Per cavarglielo di testa E sgominarlo Ma siccome Nei vostri istituti superiori Si insegna Che la natura Degli angeli È così fatta Che intende E si ricorda E vole Che si fregia Di intelletto Memoria e volontà Qualcosa Debo aggiungere Perché tu veda Limpida La verità Che laggiù Si confonde Equivocando sui termini Per vanità Professorale Che le sostanze angeliche Intendano e vogliano Lo abbiamo detto Non che ricordino Ragione Dall'attimo In cui Si guadagnarono La felicità suprema Di guardarlo Gli angeli Non hanno più Distratto Gli occhi Da dio Alla cui Onniscienza Nulla è nascosto Anzi Tutti i tempi Sono presenti Nell'istantaneità Dell'eterno Dunque La loro vista O viso Qui Intelligenza Del reale Non interrotta Dall'accavallarsi In successione Di nuovi oggetti Di conoscenza Non presenta Discontinuità Dunque Non hanno Alcun bisogno Di ricordare Ricomponendo Come fossero Uomini Percezioni E concetti Sgranati Nel tempo Fatto è Che giù da voi C'è chi sogna Anche quando non dorme Chi straparla Credendo A quel che dice O molto peggio Non credendoci Affatto E qui Invece di esaurire Il suo breviario Di angelologia Rivelata Sa benissimo Che Dante scotta Ancora ad un paio Di domande Beatrice D'accorso Al suo santo Malumore Contro i compiacimenti Dell'accademismo Teologico E di chi Gli fa il verso Dal pulpito Le va dato atto Che Intanto In quanto donna Teologale Ha le sue Ottime ragioni Voi Accusa Non battete Filosofando Un unico sentiero Nell'elaborare concetti Non vi orientate Sulla verità Che è una Talmente Vi si portano La smania E il problema Di far figura Malvezzo Che peraltro Non ci indigna Tanto noi Del paradiso Quanto quello Di subordinare Le sacre scritture Ai teoremi Filosofici O di arrangiarne Il senso Distorcendole Laggiù non si pensano Quanto sangue È costato Seminarle In tutto il mondo E quanto piace A Dio Chi alla rivelazione Umilmente Si accompagna Per mettersi In mostra Chiunque si esibisce Inlevate D'ingegno E in invenzioni Sue Regolarmente riprese Sviluppate E divulgate Dai predicatori E il Vangelo È lettera morta C'è chi Ad esempio Sostiene Che la luna Durante la passione Di Cristo Invertì la marcia Per venirsi A intromettere Fra sole e terra E che ben per questo La luce del sole Non arrivava giù E mente Menzio Orlatino Dico il falso E dice il falso Dato che la luce Si nascose da sé Come mai Altrimenti Quell'eclissi Miracolosa Coprì Secondo testimoniano I Vangeli L'universo Mondo Interessando Egli spagnoli Egli indiani Non meno Dei giudei Non ci sono A Firenze Tanti lapi E bindi Quante di queste Corbellerie Si sbraitano Dal pulpito A destra E a manca Ogni anno Che passa È da sapere Che ai vezzeggiativi Infantili Di Jacopo E di Aldobrandino Rispettivamente Lapo E Bindo Rispondevano Sul finire Del 200 Circa 2500 E così Le pecorelle Che non sanno Se ne tornano Dai loro pascoli Dell'anima Rimpinzate Di vento Né purtroppo Il fatto Di ignorare L'entità Del danno Che si procurano Le assolve L'ignoranza Del Vangelo In altri termini Non esclude La colpa Dei semplici Anzi È la colpa Non disse Nostro Signore Alla comunità Primaria Degli apostoli Andate E predicate Al mondo Ciance Ma affido A loro La dottrina Della verità E solo Quella Suonò Sulle loro Bocche Nelle sue Guance Tal che Combattendo Per diffondere Il fuoco Della fede Gli apostoli Si fecero Scudo E lancia Della buona Novella Ora 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 si va Con Motti E con Iscede A predicare E pur Che ben Si rida Gonfia Il cappuccio E più Non si richiede Cioè All'incirca Ora va Che si predica Infilando Battute E basta Che la gente Si svellichi Il frate Goncola Nella tonaca Che si vuole Di più Tale Uccello Però Si annida Nel Becchetto Che è la punta Del cappuccio A penzoloni E l'uccello E il diavolo Un uccellaccio Tale Che se il popolino Dei fedeli Se ne accorgesse Si accorgerebbe Quanto niente Valgano Assoluzioni E indulgenze Che gli rifilano Quei frati Fatui E nelle quali Lui confida Tanto E per le quali Tanta Dabbenaggine Si è sviluppata Al mondo Che senza La minima Garanzia Sacramentale La gente Disposta A precipitarsi Da chiunque Le prometta Un perdono Qualsiasi Un qualsivoglia Scarico Di coscienza Con questa Dabbenaggine Sant'Antonio In grassa Il suo porco E altri porci Più porci ancora Pagando di moneta San saconio Dove le monete Illegali Sono senz'altro Indulgenze Non autorizzate Mentre Sant'Antonio E Sant'Antonio Abate Anacoretta Nella tebaide Ai tempi Di Costantino L'iconografia Sacra Lo rappresenta Col tentatore Accucciato Ai piedi In figura Di maiale Onde La sua Qualifica Di patrono Degli animali Domestici Maiali Inispecie Onde L'uso Dei frati Che gli Sintesteranno Di allevare Maiali Con le Lemosine Estorte La minchioneria Dei contadini In conto Brevi In ragione Chi sono Gli angeli Risposta La natura Angelica Si oltre Si ingrada In numero Talmente si moltiplica Di grado In grado Che non esiste Né lingua Né pensiero D'uomo Che possa Spingersi A tanto D'altronde Se tu Consideri Bene Quanto C'è stato Rivelato A mezzo Del profeta Daniele Il quale In sogno Visionò Intorno Al trono Fiammeggiante Dell'Eterno Decine Di migliaia Di centinaia Di migliaia Di addetti Celesti Capirai Che nelle Miriadi Si nasconde Un numero Incalcolabile Ma Determinato E per Sedare L'estremo Dubbio Taciuto Tutti Questi Angeli Sono Tutti E E Chiudere In gloria Santa Beatrice Dei malumori Postilla La prima luce Luce Del dio Luce Che si irradia Sulla totalità Delle intelligenze Celesti E' recepita Dalla loro Natura In tanti Modi Distinti Quanti sono I singoli Angeli Cui si abbina Rifrangendosi Onde Però Che all'atto Che concepe Segue L'affetto Da che Alla cognizione Di dio Consegue E si commisura L'amore Per lui Nella natura Angelica La beatitudine Amorosa Varia Innumerevolmente Per intensità Di fervore Ora puoi farti idea Dell'altezza Suprema E della sconfinata Munificenza Di cui è capace L'eterno Che tanti specchi Ha creato Nei quali La sua luce Si frantuma Mantenendosi Uno come prima Uno Manendo in sé Come davanti E sugli angeli E sugli angeli È proprio tutto Altre domande Dante Non ne ha Noi Forse sì Questa Quale o quali Autori Di questo mondo Hanno capito O intuito Prima che a tante La santa donna Lo rivelasse Per filo E per segno Il significato Vero Delle scritture In ordine Alla creazione E alle prerogative Degli angeli Intuito Diversi Perfino Asparazzi Qualcuno Che le scritture Non le aveva mai lette E con rigore Magnanimo Si attenne Alla ragione Buona Fiutatrice Di verità Nell'intricata Penombra Del reale Per esempio Aristotele Il quale A comprovare La simultaneità Della creazione Dei cieli Mobili E degli angeli Che li muovono Aveva sviluppato Lo stesso Argomento Razionale Che Beatrice Ha compendiato In tre versi E Dante Alighieri Improprio Elabora Nella monarchia Non è la funzione A trovar La propria Ragion D'essere Nell'essenza Della creatura Ma l'essenza Della creatura Nella propria Funzione Notevole Che a fratto Maso D'Aquino Quest'argomento Non piacesse Per niente E' capitato Già Che sui temi Più assortiti Ora Beatrice Ora questa O quell'anima Parlante Segnalassero Discrepanze Apprezzabili Fra le verità Di cui sono Testimoni E i pareri Di doctor Angelicus Mai come qui Però Con tanto puntiglio E perfino Con una certa Insofferenza Tommaso Ad esempio Cataloga Le sostanze Create Sincronicamente Agli esordi Della creazione In numero Di quattro Anziché tre Avanzando Riserve Anche Sul sincronismo Perfetto Di più Di più Sostiene Siamo stati Investiti Da subito Di grazia Santificante La stessa Grazia Incompleta E provvisoria Che abilitano I uomini A concorrere Alla beatitudine E contrae Fin quasi Ad azzerarli I tempi Della prova Della doppia Opzione Angelica Della cacciata Dei renitenti E della simultanea Assunzione In gloria Dei fedeli Mentre La verità Sembra diversa E sembra La più acaptata Meglio Buonaventura Il quale assume Come Beatrice Un minimo Di tempo A essere intercorso Tra le varie fasi Per dar tempo Alla materia Informe Di decantarsi Alla terra Di compattarsi Ed accogliere Il precipizio Degli angeli Indiavolati D'altronde Se gli angeli Furono dotati Di grazia Santificante Fin dagli esordi In una condizione Che peraltro Esclude Le tentazioni Della carne E le istigazioni Del diavolo Dov'è la loro Libertà Di scelta La benemerenza La causale Del premio E come è pensabile Di contro La colpa Dei reprobi Anche a questo Rilevante proposito Parrebbe aver ragione Buonaventura Quando scrive Negli angeli L'uso del libero arbitrio Precedette L'infusione Della grazia E pertanto Nella stessa Infusione Della grazia Il moto Del libero arbitrio Alla grazia Informato Moto in cui Consiste il merito Potete precedere Il premio Il premio stesso Nell'ordine naturale Cioè Nella successione Causa Effetto Sebbene Gli fosse Simultaneo Nel tempo A rendersi Alla grazia Se abbiamo capito bene Fu anche Per gli angeli La motivazione Della grazia E nell'attimo Stesso La grazia E la grazia conferita Loro in premio Secondo una procedura Limpidamente Inimmaginabile Fu grazia Santificante Arricchita Dalla visione Sovrannaturale Di Dio O Lumen Glorie Insomma Quella che Beatrice Chiama Grazia Illuminante E tocca I beati Tommaso Va da sé Non sbaglia Sempre Sulla quantità Ad esempio Ma le scritture In merito Parlano chiarissimo Ha sacrosantamente Ragione Come ha ragione Quanti altri Buoni E dotti Cristiani Danno il numero Degli angeli Incalcolabile Ma non infinito Che se fosse infinito Infinita Essendo Ogni frazione Di infinito Infinito Sarebbe anche Quel 10% D'angeli maledetti Che precipitando Han lasciato libere Le loro sedie celesti Infinite Le sedie libere Che i beati Sono chiamati Ad occupare Dilazionata All'infinito La fine del mondo Eccetera Così ha ragione Tommaso Nel suggerire Che gli angeli Differenziati Per merito E grazia Nelle tre Gerarchie E nove ordini Che sappiamo Si differenzialmente All'interno di ciascun ordine Uno per uno Invece Sbaglia ancora E questa è grossa Quando a spiegare La tenebra calata Sulla morte di Cristo Accredita L'idiozia Dell'eclissi Ordinaria di sole È proprio È proprio lui Che mente Come quando E così Chiudiamo La rassegna Aggiudica Agli angeli L'esercizio D'una certa Memoria Intellettiva È sempre lui Confutando A vanvera Aristotele Averroè E averroisti Dello stampo Di sigeri I quali escludono L'ipotesi Con la stessa Perentorietà Di Beatrice Decisamente Infatto D'angeli L'un sentiero Della verità Non figura Tracciato Nella summa Teologica Con sufficiente Continuità Di tratto La scienza Della rivelazione In persona Di Beatrice Ci fa sapere Che chi lo vuol Trovare Quel sentiero Non ha che Da cercarlo Nella parola Rivelata Utilizzando La sua povera Ragione Fin dove Quella può E oltre Il limite Rinunciando Alla frenetica Cavillosità Dell'arbitrio E rassegnandosi All'evidenza Dell'ignoto Perché l'ignoto Nemmeno I teologi Lo conoscono E quando mai Lo conosceremo Noi Per le intelligenze Celesti Leggiamo Nella monarchia Essere Altro Non è che Conoscere Il proprio Essere Senza Intermittenze Omogeneamente Condizione Della loro Eternità Fossimo Anche noi Stupidi Della terra Destinati All'eternità Tanta fede Ci vuole Per escluderlo Quanta per Crederci C'è caso Che quegli Angeli Smemorati Prefigurino La condizione Che ci è stata Promessa Un conoscerci Senza trappole Di coscienza O vuoti Di cuore Senza smanie Di futuro O di passato Anzi E rimpianti Senza Accumulo Di cognizioni Inesistenti Al tempo E contemporanei Alla nostra Perpetua Identità Interi E lievi Un riconoscerci In Dio Che tutto è Meno che teologo E la teologia Si profila Finalmente Quassù Come una laboriosa E deludente Propedeutica Alla verità Dell'ignoto Un umile Esercizio D'insufficienza Quando ambedue Li figli Di latona Coperti Del montone E della libra Fanno Dell'orizzonte Insieme Zona Quant'è Dal punto Che il cenit In libra Infin che L'uno E l'altro Da quel cinto Cambiando L'emisperio Si di libra Tanto col volto Di riso Dipinto Si tacque Beatrice Riguardando Fiso Nel punto Che m'avea vinto Poi cominciò Io dico E non dimando Quel che tu vuoi udire Perché io l'ho visto L'ave s'appunta Ogne ubi E ogni quando Non per avere a sé Di bene acquisto Che esser non può Ma perché suo splendore Potesse risplendendo Dir subsisto In sua eternità Di tempo fore Fuor D'ogni altro Comprender Come i piacque Saperse I nuovi amor L'eterno amore Ne prima Quasi torpente Si giacque Che ne prima Ne poscia Procedette Lo discorrer Di Dio Sovra quest'acque Forma Forma e materia Congiunte E purete E purete Usciro ad esser Che non avvia fallo Come d'arco Tricordo Tre saete E come in vetro In ambra O in cristallo Raggio 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 resplende Si che dal venire All'esser Tutto Non è intervallo Così il triforme Effetto del suo sire Nell'esser suo Raggiò insieme Tutto Sansa distinzione In essordire Concreato fu ordine E costrutto Alle sostanze E quelle Furon cima Nel mondo In che puro atto Fu produtto Pura potenza Tenne la parte Ima Nel mezzo Strinse potenza Con atto Tal vime Che giammai Non si divima Ieronimo Vi scrisse Lungo tratto Di secoli Degli angeli Creati Anzi che L'altro mondo Fosse fatto Ma questo Vero E scritto In molti lati Dall'Iscrittor Dello Spirito Santo E tutte Ne avvedrai Sebbene Acquati E anche La ragione Il vede Alquanto Che non Concederebbe Che i motori Sansa sua Perfezione Fosser Cotanto Or sai tu Dove E quando Questi amori Furon creati E come Si che Spenti Nel tuo Disio Già Son tre Ardori Nei giugneriesi Numerando Al venti Si tosto Come Degli angeli Parte Turbò Il soggetto Di vostri Alimenti L'altra Rimase E cominciò Quest'arte Che tu Discerni Con tanto Diletto Che mai Da circuir Non si Diparte Principio Del Cader Fu Il Maladetto Superbir Di colui Che tu Vedesti Da tutti I pesi Del mondo Costretto Quelli Che vedi Qui Furon Modesti A riconoscerse Dalla Bontate Che li Avea Fatti A tanto Intender Presti Perché Le viste L'or Furo Essaltate Con grazia Illuminante E con L'or Merto Siccano Ferma E piena Volontate E non Voglio Che dubbi Ma sia Certo Che ricever La grazia È meritorio Secondo Che l'affetto L'è Aperto O mai Dintorno A questo Consistorio Puoi Contemplare Assai Se le parole Mie Son ricolte Sans Altro Aiutorio Ma perché In terra Per le vostre Scole Si legge Che l'angelica Natura È tal Che intende E si ricorda E vole Ancor Dirò Perché tu Veggi Pura La verità Che laggiù Si confonde Equivocando Insiffatta Lettura Queste Sustanze Poiché Furgioconde Della faccia Di Dio Non Vol Serviso Da essa Da cui Nulla Si nasconde Però Non hanno Vedere Interciso Da nuovo Obietto E però Non bisogna Rememorare Per concetto Diviso Sì che Laggiù Non Dormendo Si sogna Credendo E non Credendo Di Cervero Ma Nell'uno È più Colpa È più Vergogna Voi Non andate Giù Per un Sentiero Filosofando Tanto Tanto Vi Trasporta L'amor Dell'apparenza E il suo Pensiero E Ancor Questo Quassù Si comporta Con Men Disdegno Che Quando È Posposta La Divina Scrittura O Quando È Torta Non Vi Si Pensa Quanto Sangue Costa Seminarla Nel Mondo E Quanto Piace Chi Umilmente Con Essa S'accosta Per Apparer Ciascun S'ingegna E Face Sue Invenzioni E Quelle Son Trascorse Da Predicanti E Il Vangelio Si Tace Un Dice Che La Luna Si Ritorse Nella Passione Di Cristo E Si Interpose Perché Il Lume Del Sol Giù Non Si Porse E Mente Che La Luce Si Nascose Da Se Però All'Ispani E All'Indi Come A Giudei Tale Eclissi Rispose Non Ha Fiorenza Tanti Lap E Bindi Quante Si Fatte Favole Per Anno In Pergamo Si Gridano Quinci E Quindi Sicché Le Pecorelle Che Non Sanno Tornan Del Pasco Pasciute Di Vento E Non Le Scusa Non Vederlo Danno Non Disse Cristo Al Suo Primo Convento Andate E Predicate Al Mondo Ciance Ma Diede L'or Verace Fondamento E Quel Tanto Sonò Nelle Sue Guance Si Cappugnar Per Accender La Fede Dell'Evangelio Ferro Scudo E Lance Ora Si Va Con Motti Con Iscede A Predicare E Pur Che Ben Si Rida Gonfia Il Cappuccio E Più Non Si Richiede Ma Tale Uccell Nel Becchetto Sannida Che Se Il Vulgo Il Vedesse Vederebbe La Perdonanza Di Che Si Confida Per Cui Tanta Stoltezza In Terra Crepe Che Sanza Prova D'alcun Testimonio Ad Ogne Promession Si Correrebbe Di Questo Ingrassa Il Porco Sant'Antonio E Altri Assai Che Sono Ancor Più Porci Pagando Di Moneta Sanzaconio Ma Perché Sian Digressi Assai Ritorci Gli Occhi Oramai Verso La Dritta Strada Sì Che La Via Col Tempo Si Raccorci Questa Natura Si Oltre Si Ingrada In Numero Che Mai Non Fullo Quella Nè Concetto Mortal Che Tanto Vada E Se Tu Guardi Quel Che Si Rivela Per Daniel Vedrai Che In Sue Migliaia Determinato Numero Si Cela La Prima Luce Che Tutta La Raia Per Tanti Modi In Essa Si Recepe Quanti Son Li Splendori A Chi S' Appaia Onde 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 Che All' Lato Che Concepe Segue L'affetto D'amar La Dolcezza Diversamente In Essa Ferve E Tepe Vedi L'eccelso O Mai E La Larghezza Dell' Etterno Valor Poscia Che Tanti Speculi Fatti Sa In Che Si Spezza Uno Manendo In Sè Come Davanti Sè 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 S май Sè Sè Grazie.